Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre, ed eccoci ad un nuovo video della serie dedicata alle distribuzioni GNU Linux 100% libere e raccomandate dalla Free Software Foundation. Nei video precedenti abbiamo già visto Triskel, una distribuzione GNU Linux basata su Ubuntu, semplice da utilizzare e che vi ho consigliato. Parabola, una distribuzione basata su Arch, praticamente una Arch pura ma completamente libera, e PureOS, la distribuzione sviluppata dalla compagnia Purism, anch'essa semplice da utilizzare. Oggi è il turno di Geeks, Geeks System, una distribuzione davvero interessante che probabilmente installerò dopo averla provata su una macchina virtuale, vedrò di farci un po' di esperimenti su macchina virtuale, ma devo dire che mi attira molto perché si tratta di una di quelle distribuzioni Linux molto singolare. Attualmente, come saprete, uso Parabola, ma potrei utilizzare benissimo una qualsiasi altra distribuzione, non sento completamente di soffrire di distro hopping. Però, ripeto, Geeks è molto interessante per via del suo gestore di pacchetti funzionali. A breve parleremo proprio del suo gestore di pacchetti. Comunque, Geeks è la distribuzione GNU Linux sviluppata direttamente dal GNU Project. È una rolling release con, appunto, questo gestore di pacchetti funzionale. Allora, di cosa si tratta? Per capirlo, dobbiamo parlare dei gestori di pacchetti tradizionali o usati normalmente da qualunque altra distribuzione GNU Linux. I gestori di pacchetti tradizionali, apt, pacman, dnf, eccetera, installano i pacchetti globalmente in una qualche directory del sistema, solitamente slash usr slash bin. Con gli aggiornamenti si ha un cambiamento permanente dei pacchetti, il che significa che si perde la versione precedente, la versione vecchia dei pacchetti che avevamo installato. Ovviamente è sempre possibile in qualche modo effettuare il downgrade dei pacchetti, ma diciamo che la versione vecchia la perdi. Stagli gli aggiornamenti e ti ritrovi le versioni aggiornate, ovviamente. Cosa significa ciò? Che se nel momento sbagliato, durante un aggiornamento, salta via la corrente, l'alimentazione del computer o comunque viene interrotto l'aggiornamento, beh, si può rompere qualcosa. Si potrebbe arrivare a rendere praticamente inutilizzabile il sistema. Inoltre, con un gestore di pacchetti tradizionale non si possono avere due versioni dello stesso pacchetto installate contemporaneamente. Un'altra cosa è il problema delle dipendenze. Con un gestore di pacchetti tradizionale, se un pacchetto A dipende da un pacchetto B e da un pacchetto C e questi pacchetti B e C a loro volta hanno delle loro dipendenze, ad esempio il pacchetto C ha come dipendenza un altro pacchetto versione 10 e il pacchetto C ha come dipendenza lo stesso pacchetto però in versione 9, beh, abbiamo un problema. Alla fine non riusciamo ad installare il pacchetto A che volevamo installare. Invece, con Geeks è possibile, perché appunto si possono avere diverse versioni dello stesso pacchetto installate contemporaneamente. Quindi, come funziona un gestore di pacchetti funzionale? Ogni pacchetto avrà un suo hash unico, un codice unico. Quindi se abbiamo più versioni dello stesso pacchetto installato, non c'è alcun problema perché ogni versione avrà il suo hash. I pacchetti vecchi non vengono cancellati quando c'è un aggiornamento, ma semplicemente i nuovi pacchetti vengono simlinkati e quindi utilizziamo la nuova versione senza aver cancellato le vecchie versioni dei programmi. In questo modo il sistema non si può rompere durante un aggiornamento ed è possibile sempre effettuare il rollback ad una versione precedente di ogni pacchetto. Inoltre è anche possibile effettuare il rollback ad una generazione precedente del sistema semplicemente da grab, dal bootloader. Molto comodo, molto interessante direi. Insomma, tutto ciò mi alletta veramente tanto, quindi è possibile che un giorno mi troverò ad usare Geeks. Vedremo. Intanto la installo su macchina virtuale. Quindi cominciamo. Io l'ho scaricato. Qua siamo sul sito di Geeks. Geeks.gnu.org La documentazione è molto ben fatta, devo dire. Quindi cominciamo effettuando il boot del sistema. Ed eccoci alla scelta della lingua. Abbiamo un installer, diciamo, grafico. Ovviamente non è proprio grafico, è con un'interfaccia N-Courses da terminale. Noi diciamo, ha sembianze grafiche. Allora, cerchiamo la lingua italiana. Qua, italiano. Ok. Area geografica Italia, va bene. Ecco, installazione grafica usando un'interfaccia da terminale, oppure abbiamo la possibilità di installare da terminale, da shell, senza interfaccia grafica. Ovviamente scelgo la prima opzione. Poi scegliamo il fuso orario, quindi vado su Europa, Roma. Ecco qua. Poi il layout della tastiera. Voi andate con italiano, io no. Cerco la mia tastiera. Eccola qua. Va bene. Varianti del layout della tastiera. Poi inseriamo il nome della macchina, il nome host. Scelgo Geeks, va bene. Voi potete scegliere un altro nome per la macchina. Poi, controllo connettività. Scoperta dei server per i sostituti. Allora, possiamo abilitare dei server aggiuntivi tramite LAN. In realtà non mi serve. Comunque va bene, possiamo abilitare. Inserisci la password per l'amministratore di sistema, per root. Va bene. Ok. Confermiamo la password. Bene, adesso dobbiamo aggiungere almeno un nuovo utente, senza un utente normale, non root. Quindi andiamo su aggiungi, lo chiamo utente. Va bene, ha già inserito il percorso della directory home. Home utente. Inseriamo la password. Andiamo su ok. Confermiamo la password. Andiamo su ok. Va bene. Andiamo su ok. A questo punto possiamo scegliere un ambiente grafico. Abbiamo GNOME, XFCE, MATE, ENLIGHTMENT, OPENBOX, OSOM, I3, RATPOISON, IMAX. L'ambiente grafico di IMAX. Va bene. Io vado con XFCE. Notate, non abbiamo KDE Plasma. Non è che non è presente in questa lista, ma ce l'abbiamo sui repository. No, proprio non esiste su GNU, su GIX. Va bene, vado con XFCE. Ok. Abbiamo la possibilità di abilitare alcuni demoni. Ad esempio SSHD, se ci vogliamo connettere tramite SSH a questa macchina. Poi un demone per TOR, per abilitare il router del TOR. Sapete, TOR è per navigare anonimamente su internet. E poi abbiamo Mozilla NSS, i certificati NSS di Mozilla. E questi ci servono per i siti HTTPS. Vabbè, lascerei solo questo abilitato. Vado su OK. Se vogliamo, possiamo anche abilitare CUPS per i server di stampa. Non mi serve, vado su OK. Ok, come sapete, preferisco sempre effettuare un partizionamento manuale con home separata. Ma in questo caso vado con il partizionamento guidato, usando l'intero disco ed installando GIX su un'unica partizione, come unico sistema operativo. Ecco, qua mi propone due partizioni, un'area di swap di 2GB e tutto il resto per la root del sistema. Direi che va benissimo così. È una partizione EXT4, va bene. Vado su OK. Riepilogo, formatare il disco, sì, formatta, OK. Bene, a questo punto ci viene presentato il file config.scm presente nella directory etc. Quindi siamo su slash etc. slash config.scm. Qua è possibile modificarlo. È anche possibile salvare questo file dopo averlo modificato, dopo averlo configurato altrove da qualche parte per riutilizzarlo successivamente per nuove installazioni. Diciamo, se installiamo GIX su diverse macchine, su diversi PC, possiamo utilizzare questo file e quindi automatizzare un bel po' di cose. Ad esempio l'utente che abbiamo inserito, vedete che qua abbiamo la lista degli utenti. Ma è possibile installare automaticamente tutti i pacchetti che avevamo sulla nostra installazione. Quindi su questo file è possibile effettuare diverse configurazioni e poi ritrovarsi queste configurazioni già effettuate per una successiva installazione su un'altra macchina. Molto comodo. È un'altra feature di questa distro che mi alletta molto. Vado su ok. È partita l'installazione, quindi metto il video in pausa e ci vedremo dopo. Ed ecco che il sistema ha finito di installarsi, quindi premiamo invio per continuare. Come vedete siamo alla schermata di grab del bootloader. Quindi abbiamo GNU con Linux Libre 6.0.10. Già vedo che la versione del kernel è molto nuova. Beh, si tratta di una rolling release, quindi è normale. Vediamo. Questo non è Systemd, l'init system che vedete, ma Sheffard mi sembra che si chiami. Comunque siamo al login. Credo che il sistema abbia installato un login manager. Sì, questo è sicuramente LightDM. Quindi vado con l'utente, inserisco la password. Ed ecco che dovrebbe partire XFCE. Siamo su XFCE, per niente configurato, molto vanilla diciamo. Possiamo vedere un po' la dotazione a software presente. Ad esempio browser web, ce l'abbiamo uno installato? No, nessuno. Vedremo che browser web installare. Intanto andiamo su accessori. Abbiamo il gestore degli appunti. Il file manager tuner. Apriamolo magari. Questo è tuner. Nella versione 4.16.11. Va bene. Poi abbiamo il mobilizzatore di immagini ristretto. Va bene. Il terminale di XFCE ovviamente. E va bene, non c'è molto installato. Ci sono tutte le impostazioni di XFCE. Comunque nulla da dire. Come kernel magari riguardiamo. Uname R. Esatto, abbiamo il kernel nella sua versione libera. Il kernel libre 6.0.10. Direi di cominciare installando un browser web. Un browser internet. Quindi il package manager, il gestore dei pacchetti è GX. Si può utilizzare senza i poteri di root. Quindi senza sudo. Vado con GX install. E il browser. Anzi, prima lo cerchiamo. Facciamo search Firefox. So ovviamente che Firefox non è presente. Ma ci sarà un qualche browser basato su Firefox. Allora, abbiamo IceCut. Esatto. IceCut basato su Mozilla Firefox. Va bene, quindi installo IceCut. Non ho idea se ci sia qualche altra alternativa. Vado con GX, come detto senza sudo. GX install IceCut. Lo sta installando. Nel frattempo direi di farvi vedere la directory dove i programmi vengono installati. Abbiamo detto che il package manager è un package manager funzionale. GX funziona in un modo molto singolare perché non va ad installare su usrbin. Vediamo. Ecco, su usrbin l'abbiamo vuota praticamente. Non c'è nulla. Ma se guardiamo su GNU Store. Ecco, questi sono tutti i pacchetti installati con il loro hash che vi dicevo. Ad esempio, non so, tar. C'è qua il suo hash. Tar nella versione 1.34. Se installiamo una nuova versione di tar, diciamola 1.35, poi ce la troveremo qua insieme a quella vecchia. E le due versioni non andranno in conflitto. Vediamo a che punto è l'installazione del browser. Abbiamo già finito. Ho risolto dando questo comando. GX install IceCut trattrino trattrino failback. E quindi abbiamo IceCut. Adesso andiamo su browser web. E si avvia IceCut. Nella sua versione. 102.5.0 Basato su Mozilla Firefox ESR. Bene. Già vedo che abbiamo HTTPS Everywhere. E altri plugin. Ad esempio LibreJS. Che è una specie di NoScript. Ti va a bloccare quindi gli script. Gli Javascript. Almeno quelli non liberi. Va bene. Fatemi controllare gli add-on. Andiamo su estensioni. Mi è crashato. Va bene. Riproviamo. Andiamo su estensioni. Queste sono quelle abilitate. Ma se vogliamo installarle di nuove. Andiamo qua su raccomandati. Esatto. Veniamo reindirizzati su una pagina. Di LibrePlanet.org Ma non sulla pagina di Mozilla Firefox con tutti gli add-on disponibili. Stessa storia per quanto riguarda ad esempio il browser A-browser di Triskel. Che già abbiamo visto. Ok. Direi di cercare degli aggiornamenti. Spero che ci siano degli aggiornamenti. Si fa con Geeks Pool. Spero che ci siano. Per farvi vedere poi. E' ovviamente. Diverse versioni dei pacchetti contemporaneamente installate. E' un rollback. Vediamo di fare il downgrade a una generazione precedente. Praticamente su Geeks. Ogni volta che cambi qualcosa del sistema. Hai una nuova generazione. E puoi ritornare a quella precedente. Quando vuoi. Metti il video in pausa. E ci vediamo dopo. Bene. Con Geeks Pool. Abbiamo scaricato la lista dei nuovi programmi. Ci viene consigliato. Di eseguire HashGeeks. Però questo è per. Nel caso in cui abbiamo installato. Il gestore dei pacchetti Geeks. Su un'altra distribuzione. Perché si. E' possibile utilizzare. Questo gestore di pacchetti. E quindi tutti i pacchetti di Geeks. Anche su altre distribuzioni. Essendo però su Geeks System. Sulla distribuzione Geeks. Possiamo ignorare quanto c'è scritto. E andare con sudo Geeks. Reconfigure. Etc. Aspetate. Etc. Config. Scm. Password. scusate sudo geeks system reconfigure e poi slash etc slash config punto scm quindi aspetto che gli aggiornamenti metto in pausa ci vediamo dopo bene c'erano diversi aggiornamenti tra l'altro ci è voluto un po perché ha compilato i sorgenti ho notato che c'era un aggiornamento del visualizzatore di immagini ristretto quindi vi faccio vedere che sul directory gnu store abbiamo aspettate che ingrandisco un po così non vedete nulla va bene vi faccio vedere che sulla cartella gnu store abbiamo le due versioni di ristretto faccio un grep ristretto ecco qua abbiamo ristretto 0.12.3 e 0.12.4 quindi attualmente stiamo utilizzando la versione più nuova ovviamente ma potremmo effettuare il rollback a quella vecchia qualora ne sentissimo il bisogno bene cosa posso posso mostrarvi vediamo un po su quale generazione siamo abbiamo creato una nuova generazione con questi aggiornamenti si va con sudo geeks system list list generations password e allora abbiamo una generazione 1 e una generazione 2 generazione 1 praticamente la nuova installazione di installazione effettuata e la generazione 2 è quella corrente dopo aver effettuato gli aggiornamenti quindi anche qua potrei semplicemente andare con sudo geeks system rollback e tornare alla generazione 1 in qualsiasi momento quindi con sudo geeks system rollback facciamo il rollback dell'intero sistema con geeks package rollback facciamo il rollback dei pacchetti dei singoli pacchetti ovviamente non è che ho molti pacchetti abbiamo installato icecat quindi se facciamo un geeks package list generations vediamo che abbiamo la generazione 1 con icecat va bene mi interesserebbe andare a vedere un po cosa abbiamo adesso nel menù del bootloader grab perché come vi ho accennato è possibile anche fare il rollback dal grab cioè avviare una configurazione precedente una generazione precedente va bene andiamo a vedere cosa abbiamo esatto abbiamo la prima voce che sarebbe la generazione più nuova e poi new system con configurazione vecchie e questa è la generazione precedente bene tutto molto interessante continuerò a fare i miei esperimenti su macchina virtuale la cosa come detto mi alletta molto non è che non è che ho problemi sulla distribuzione gno linux che usa attualmente va tutto bene però i problemi che geeks risolve teoricamente sono molto interessanti è una distribuzione sicuramente adatta ad utenti esperti non ad utenti principianti però ha tanto da offrire veramente tanto da offrire va bene spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima ciao da clarintux